ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video un video tag che l'ho visto sul canale di sarah zerbini ciao tesoro un bacio grandissimo e si chiama tag domande strane non so chi l'ha ideato quindi come titolo metterò solo tag domande strane perché come avete già visto perché sinceramente non so chi l'ha ideato sapete che ogni volta che faccio un tag comunque io metto sempre il nome di chi l'ha ideato ma purtroppo questa volta non lo so mi dispiace scusatemi per la tosse mi dispiace quindi non metterò il nome perché non so sinceramente chi è mi sono ripresa dall'ultima volta come sentite adesso sto meglio parlo meglio mi rimasta solo un po di tosse un pochino come avete visto che basta e fatemi sapere anche se come luce va bene così insomma la postazione credo che si vede benissimo da come almeno lo vedo io non mi pare tutto questo scuro mi dovrete vedere bene niente allora cominciamo subito visto questo tag vi ripeto da sarah zerbini mi è piaciuto quindi cominciamo sono sei domande prima domanda qual è il soprannome con cui ti chiama solo la tua famiglia allora c'è sta un soprannome se lo volevamo chiamar soprannome dei soliti soprannome li danno gli amici no la famiglia di solito è difficile ti chiama per nome per il tipo come io mi chiamo greta e chiamano gre ha di solito mi chiamano greche però non è un soprannome perché un derivato diciamo del nome mio greta gre però fin da piccola sia mia madre che mio padre mi chiamano zella zella cella sarebbe cella la cella la celletta di mamma la cella di mamma oppure mi fanno zella di mamma con la z o zella cella vabbè comunque e quindi solo quello se si può dire soprannome si può chiamare così a me pare solo quello si vabbè mi chiama in amore de mamma vabbè se roba così però proprio come soprannome cella quindi o celletta celletta de mamma cella de mamma oppure zella con la z vabbè comunque così seconda domanda la tua strana abitudine c'erano tante soprattutto non chiamo abitudini chiamo bizi pure robe strane che faccio io c'erano tante tipo quei trucchi che già non so se ve l'avevo detto già in un altro video tipo di trucchi come per esempio i rossetti per esempio celluline prendo uno lo dopero quei due o tre giorni quello che lo vuoi doperare poi lo metto da un'altra parte non lo metto più dove stava prima di posto perché la porra mia che la prossima volta arriva da prendere sempre quello almeno così io cambio rossetti non uso sempre il solito e li uso tutti dato che come avete visto anche in un video precedente molto precedente di tutta la mia collezione dei rossetti e che c'erano veramente tanti quindi io ne prendo uno lo dopero lo uso lo indosso poi dopo invece da rimettere a posto suo o due a prima lo metto dentro un astucetto che così lì mano a mano li finisco i rossetti mette poi rimetto l'astucetto lo metto lo metto tra l'astucetto che così li adopero tutti praticamente questa è la mia abitudine tipo come anche i smalti qui vedete adesso non vedete la parte che c'è perché vedete qui c'è tutte queste quattro colonne righe no? ce n'è un'altra sopra che non vedete io per esempio anche qui i smalti questa è un'altra mia abitudine che vado a fila cioè per esempio metto il primo messo quello ok quando volevo metterò il secondo cioè vado proprio a fila vedete tipo qui non so metto questo poi questo è roba mia strana e così insomma non ce l'ho fatta in caso fatemi sapere seppure voi sotto i commenti avete tutte queste abitudini un po' strane insomma diciamo perché altro queste abitudini qui altre prodotti no insomma che vado a fila sulle cose ecco a meno così ridopero tutti anche con la stessa roba dei rossetti come lo smalto no? lo smalto dai prendo questo per di la prossima volta che sovi un altro smalto li vado a riprendere questo no? cioè indosso sempre quello dopo siccome ce n'è tanti già ce n'è cinque sei e sai quali mie sono questi tanti quindi con i rossetti lo stesso vabbè comunque non so se mi avete capito comunque il concetto è quello poi passiamo alla terza domanda hai qualche strana fobia? allora ho la fobia di insetti tranne che delle farfalle le farfalle però io dico quelle belle anche quelle grandi quelle tipo anche le farfalline quelle bianche che si vedono tutte quelle colorate però tipo le falenne no mi fanno schifo perché cicciotte pelose mi fa senso un bel po' ma non è paura perché ripeto la fobia ce l'ho degli insetti tutti puzzole mi fanno schifo ragni api vespe le mosche fanno schifo perché però non è che ho paura che fugo via cioè faccio così e basta ma fa di schifo perché stanno in mezzo all'etane insomma le zanzare le odio vabbè non le sopporto però c'è proprio la fobia però certo se mi entra l'insetto così dentro casa io cerco invece di ammazzarlo cerco di mandarlo via però se ci riesco mi tocca ammazzarlo per forza e quindi così però come insetti mi piace la coccinella, la formica e le ste farfalle qua che vi ho detto però per il resto zero ah no anche la libellula mi piace molto e poi un'altra fobia che c'ho che mi ha cominciato da qualche anno non è tanto la pura del chiuso cioè nel senso soffro un po' di claustrofobia però non è proprio una fobia beh sì una fobia diciamo tra virgolette perché c'è pure di rimanere inchiusa dentro un ascensore o qualcosa che non può uscire che non c'hai l'aria quello anche adesso mi ha cominciato prima non mi fregava niente non ero proprio così stavo tranquilla ed è invece proprio un casino sarà l'età a 29 anni se comincia si vede poi quarta domanda qual è la tua canzone che canti abitualmente e ti scateni a casa da sola che mi scateno adesso no però per esempio quando mi faccio le unghie di qua di là io prendo il telefono e metto la musica poi dipende perché c'è tante varie canzoni che mi piacciono e poi non ho un genere preferito cioè il genere sì ce l'ho che è tipo reggaeton la commerciale è l'afro e quindi io c'ho una lista di canzoni tutte così e me le ascolto che mi scatenano però la canzone dato che qui c'è una quella che un po' più è mi piace quella VVN che si chiama si chiama VVN ed è da Dienki e mi piace veramente tanto di solito reggaeton io vado sul più poi quinta domanda il tuo primo peluche me lo ricordo benissimo era un cagnolino ma non era quelli sai proprio c'è un po' di pelo pelosi come si dice no era un cagnolino così una roba così lunga sarà stata per meno e me lo portava anche a dormire come mi piaceva tanto era specie messa ad ebassotto la razza credo perché c'era delle belle orecchie lunghe e sì era lui dopo vabbè ci hanno avuti altri però dopo comunque l'ho buttati tutti via anche perché raccogliono un sacco di polvere poi tutti questi polici che c'è fu ma non è che ci hanno avuti tantissime ci hanno avuto una decina più o meno però il primo peluche è stato questo cagnolino e non l'ho trovato più mi piaceva ritrovare uno tra le maniche fino avrò fatto non lo so vabbè è quando ero fiola quindi chissà che fino ha fatto poi l'ultima domanda la sesta che dice qual è la frase o affermazione che dici spesso io non ho frasi o affermazioni che dico spesso però ho fatto caso che quando per esempio che so parlo con un ragazzo mio o con qualsiasi persona però ho fatto caso che ce faccio più con un ragazzo mio non so perché no ce faccio anche con altri però mi ero resa conto più con Roberto con un ragazzo mio che esempio dico una frase e dico no domanda ma al mare è faccio è dico la è finale sempre perché altro si può dire affermazione scusatemi stato se maledetta perché altro ecco un'affermazione perché altro eh va bene che faccio proprio eh e lui che mi ricopia mi fa eh mi fa la bocca per esempio no domanda andiamo al mare eh cioè faccio proprio metto la è finale e e c'ho questa cosa qui sto è praticamente non so da poco mi è venuta pure sta roba non so cusci cusci non ve lo so spiegare manco io com'è venuta fuori però mi viene da dire è finale comunque vabbè dipende quale concetto stai discorre tipo che ne so Roberto mi dice di no io dico no però dai cacchio domanda ma c'è come per Dio non ve so spiegare questa affermazione così diciamo dai e niente allora io questo tag è finito qua spero che vi sia piaciuto se è stato così mettete un pollice su mi raccomando sotto nei commenti voglio sapere una curiosità dato che qui dice la tua strana abitudine dato che ho quella lì dei trucchi dei rossetti dei smalti e sono curiosa di sapere la vostra sotto nei commenti sotto a questo video commentatemi fatemi sapere qualche vostra strana abitudine sarei molto curiosa cioè sono molto curiosa e se volete mi piacerebbe saperlo e poi un'altra cosa niente finisce qua il tag mi raccomando mettete il pollice su l'ho detto sotto io all'infobox comunque vi scriverò lo stesso le domande quindi metterò le domande di questo tag io taggo a tutte come sempre quindi tutti sono liberi di farlo comunque poi le domande le vedrete sotto nell'infobox e mi raccomando seguitemi su instagram come greta nils89 e su facebook per chi di voi chi mi vuole chiedere l'amicizia non c'è il suo problema e greta isabel minardi è il mio nome comunque lo vedete nel mio canale che qua giù in fondo c'è stata la copertina c'è stata tutti i miei social insomma e niente vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.